Recupera un altro pallone, Trotta, area di rigore, Trotta, Trotta! 2-0 Crotone! 1-2, straordinario! Fiorentina colpita per due volte in pochi secondi! Incredibile disattenzione della difesa di Pioli e Trotta segna il 2-0! La gioia del numero 29 di Nicola! Ripetiamo l'errore di Astori che regala il pallone a Trotta! Freddo e bravo con il sinistro!